Tutto il commercio a dettaglio, attività di servizio alla persona rese da parrucchieri e barbieri, attività di ristorazione bar, riapertura dei centri sportivi che svolgono attività all'aperto, agenzie di viaggio, tour operator e servizi di prenotazione. La Regione Umbria ha predisposto una specifica ordinanza per normare le riaperture dal 18 maggio delle attività commerciali. La firma dell'ordinanza in questione sarà successiva alla pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che nei giorni scorsi, durante la conferenza Stato-Regioni, ha annunciato la possibilità per i Presidenti di Regione di implementare le riaperture delle varie attività in base alla situazione dei contagi sul territorio regionale. L'Umbria, forte ad oggi di un basso indice di contagiosità, si atterrà al cronoprogramma vidimato dal Comitato Tecnico Scientifico regionale, già stilato e presentato a fine aprile, modificando solamente le aperture indicate per l'11 maggio, che andranno a sommarsi a quelle previste per il 18.